Ah, 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 oh, 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 eh, eh. E io che pensavo che le mie battute fossero stupide. Un'azione per non dire ai miei uomini di staccarti la testa. Che ne dice un trucchetto di magia? Adesso questa la faccio sparire. Tadà! È andata. Ah, e il vestito non è da due soldi. Dovreste saperlo, l'avete pagato voi. Edithi, voglio sentire sua proposta. Rimettiamo indietro gli orologi di un anno. Questi poliziotti e avvocati non usavano sfidare nessuno di voi. Ma, ma cosa è successo? Vi, vi sono cadute le palle? Vedete, un uomo come me... Un uomo come me... Vedete, ecco, io so perché voi fate le vostre sedutine di gruppo in pieno giorno. So perché avete paura di uscire la notte. Batman. È che Batman ha mostrato a Gotham la vostra vera natura, purtroppo. Dent. Lui è solo all'inizio. E per quanto riguarda il televisore, il piano del cinese, Batman non conosce giurisdizione. Lo troverà in qualche modo, lo spremerà. So riconoscere uno che si fa spremere dal primo sguardo e tu... Che cosa proponi? È semplice, dobbiamo uccidere Batman. Se è così semplice, allora perché non l'hai già fatto? Se sei bravo a fare una cosa, ma hai farla gratis. Quanto vuoi? La metà. Sei pazzo? No, per niente. No, per niente. Se noi non ce ne occupiamo subito, adesso, presto, il piccolino Gumball qui, non troverà più nessun Michelino per nonna Gumball. Il clown parla troppo. Atatatata. Vediamo di non far scoppiare un gigantesco pasticcio. Perci rapinare e passarla liscia. Sì? Io pago 500.000 dollari per la testa del clown. Un milione se è vivo, così posso insegnargli le buone maniere. Allora, sentite, perché non mi fate un colpo di telefono quando prenderete le cose più seriamente? Vi lascio il mio biglietto. Ciao, io sono Lorenzo. Oggi mi dilungherò poco, perché ultimamente ci sono anche state un po' di lamentele forse sul fatto che faccio le outro troppo lunghe. Questo è Joker quando va dai mafiosi. Spero che mi volete supportare. Lasciate like, attiate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.